Buona giornata! La versione pre-audio, il cinema muto, abbiamo fatto una piccola rivisitazione, adesso parliamo, dobbiamo anche raccontarvi molte cose questa mattina e quindi è necessaria l'audio, la voce. Grazie, ringrazio appunto in questo momento chi mi sta ascoltando, stavo dicendo che questa è la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa, che appunto è in questa giornata del 17 di novembre, in cui la chiesa ricorda e festeggia Sant'Elisabetta d'Ungheria, figlia di Andrea, re d'Ungheria, di Gertrude, che nacque in Presburgo, allora regno d'Ungheria, l'anno 1207. E poi altri santi ricordati oggi sono San Gregorio Taumaturgo, Sant'Ilda, Santi Acislao e Vittoria, Martiri di Cordova e poi in effetti è Acisclo e non Acislao, Cisclo e Vittoria. Poi Santi Alfio e Zaccheo, Martiri, San Gregorio di Tur, Vescovo e ancora Beata Salomea di Cracovia, Sant'Ugo di Lincoln e Sant'Agnano d'Orlean, San Giovanni de Castillo, San Floran, San Giordano Anzalone, San Cerdote e Martiri, Beato Iosafat Kocilowski, Vescovo e Martire, San Lazzaro, Beato Lupo Sebastiano, uno anche lui Martire, San Namazio di Vienne, San Tommaso Nisci, Sacerdote e Domenicano e Martire, Sant'Ugo di Novara di Sicilia. Vabbè, auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono, Elisabetta è un nome assolutamente diffuso, quindi tanti onomastici questa mattina, tanti messaggi di auguri da mandare e poi naturalmente auguri a coloro che oggi ricordano una lieta ricorrenza, un anniversario o che festeggiano il loro compleanno in questa giornata del 17 novembre. Io do il saluto anche da parte di Gregorio Zecchieli che cura la parte tecnica in regia, come vediamo anche alle mie spalle c'è un timido sole che sta affacciandosi su Portofino, proprio l'estremo punto, vedete l'estrema punta del promontorio di Portofino in questo momento viene baciata dal sole ed è l'unica parte del Tiguglio baciata dal sole in questo momento, perché abbiamo una coltre nuvolosa non, diciamo così, completa, che copre tutto il cielo ma che a macchia di leopardo appunto non impedisce al sole di uscire, almeno qua da noi. Questa situazione di variabilità sarà un po' il segno distintivo di oggi, di domani, insomma dei prossimi giorni, anche di sabato, forse dell'intero weekend, variabilità che non vorrà dire per forza tempo perturbato, quindi avremo delle piogge ma saranno temporanee, magari anche lì a macchia di leopardo, cioè pioverà magari in estremo Levante e non nel resto della regione, però avremo questa situazione di continui avvicendamenti, alternanze di ampie schiarite e di annuvolamenti e in alcuni casi anche di piogge. Il caso di oggi, per esempio, naturalmente qua sul Levante potremo avere una serata piovosa, come per esempio sull'estremo Levante e sullo Spezzino, ci sarà anche un pomeriggio di pioggia in qualche parte dell'entroterra, mentre invece per esempio sul Ponente avrete, cari amici che ci seguite dal Ponente, una giornata piuttosto buona con ampie schiarite, quindi temperature che salgono, salgono ancora, e quindi nel corso della giornata di oggi potremo ritornare a vedere addirittura i 20 gradi, che sono davvero molto strani per questa seconda metà di novembre, ecco diciamo la verità che siamo un po' al di sopra della media stagionale e in effetti anche le temperature della notte non sono scese moltissimo. Siamo andati sui 2 gradi sopra lo zero sul Monte Bue, quindi una temperatura non proprio in linea ma abbastanza in linea con le medie stagionali, 2.6 al Prato della Cipolla e 2.7 a Rocca d'Aveso. Fin qui la situazione è abbastanza normale, tutto sommato, quindi siamo in un periodo in cui lo zero termico dovrebbe proprio, diciamo così, oscillare tra i 1500 e i 2000 metri, quindi più o meno ci siamo. Poi un grado 0.6 a Rezzoglio Basso registrato a 1.57, poi c'è stato un aumento delle temperature, un grado 0.6 anche a Rezzoglio che però adesso ha, appunto nella seconda parte della notte, ha recuperato moltissimo, adesso siamo quasi sui 10 gradi, quindi evidentemente le cose sono un po' cambiate anche in quota, anche a questi livelli, e poi 7.3 a Casale di Borzonasca, 7.8 a Belpiano e 8.1 a San Sirofoce. Faccio notare come tutte queste temperature minime non siano le temperature di fine notte come sempre succede, quindi le minime si raggiungono intorno alle 5 del mattino normalmente o anche più tardi, in realtà sono minime che risalgono a mezzanotte, massimo luna, perché evidentemente dopo la copertura nuvolosa del cielo ha in qualche modo riscaldato l'ambiente, riscaldato un po' l'aria e quindi le temperature sono iniziate a salire, talmente tanto che adesso siamo praticamente oltre i 10 gradi ovunque, 10.5 gradi la minima di Pontori e 7.2 la minima di Pezzonasca di Moconesi, quindi dalla Val Graveglia alla Val Fontanabuona, con 9 gradi di minima a mezzanotte a Pian dei Preti di Tribogna e 10.4 gradi di minima a San Colombano-Certenoli, siamo a Villa Uneto, anche qua a mezzanotte e 12. Temperature decisamente più elevate sulla costa, dove evidentemente l'effetto del mare e della circolazione umida ai bassi strati si è fatta sentire, anche qua nella seconda parte della notte le temperature sono salite ovunque, oltre i 13 o addirittura 14 gradi, mentre invece nella prima parte della notte, entro mezzanotte, le temperature erano molto più basse, infatti mezzanotte 11.9 a Santa Margherita, mezzanotte 11 gradi a Rapallo, vedete proprio a mezzanotte 15-12.1, da mezzanotte in poi è salita la temperatura e poi ancora mezzanotte 0.7-10.6. Adesso invece le temperature sul nostro golf sono tutte superiori, abbiamo detto, ai 14 gradi praticamente, anche addirittura punte di 15 gradi, oppure addirittura come a Moneglia punte di 18.7, che a quest'ora sono davvero tantissime, e nella notte la temperatura a mezzanotte è scesa a 14.4. anche alte nel Golfo Paradiso, 14.2 a Bogliasco e 13.6 a Genova Nervi, mentre nel resto di Genova, insomma, nella prima parte della notte le temperature sono andate un po' più al di sotto, per esempio a Staglieno con 9.9 gradi o per esempio a Lerzelli con 11.8, poi alla Spezia con 11.9, a Savona 12.2, ad Imperia 11.9 e a Ventimiglia 12.4. Le temperature sono destinate a rimanere più o meno su questa fascia, quindi sempre al di sopra della media sagionale, con un clima piuttosto mite, ecco, se non vogliamo dire piacevole, mite sicuramente, e quindi non vediamo ancora quello che è davvero la situazione invernale, quello che dovrebbe essere molto più consona a questo periodo dell'anno. A questo punto andiamo a vedere naturalmente i titoli dei quotidiani in edicola questa mattina e iniziamo da avvenire, oggi i toni sono decisamente più distesi rispetto a quelli che ci sono stati ieri, ieri abbiamo avuto questo attacco, cioè l'altro ieri, questo attacco missilistico che ha colpito un villaggio in Polonia con due vittime, quindi grande tensione internazionale, poi sono arrivate, diciamo, le risultanze delle indagini fatte in Polonia e quindi da lì la certezza che si è trattato non di un missile russo che voleva allargare il conflitto, ma un missile ucraino della contraerea che voleva naturalmente contrastare un missile russo e che è uscito fuori rotta. Spiragli, nonostante tutto, il missile caduto in Polonia era della contraerea ucraina, Mosca apprezza la cautela degli Stati Uniti, i canali restano aperti, dopo una notte di paura scende la tensione, la Nato non entreremo nel conflitto ma la responsabilità è russa, il G20 senza Putin contanna l'aggressione dell'Ucraina, ancora diffusi blackout dopo i bombardamenti, ce ne sono stati anche durante questa ultima notte, Zelensky contesta la versione ufficiale, però Zelensky in questo momento è un po' messo, un po' sotto tutela, diciamo, in questa fase. Coperture e ricostruire, cooperare e ricostruire l'editoriale di Andrea Lavazza, il G20 di Bali visto da Occidente. Qua siamo invece alla COP27, il presidente brasiliano come una rock star, impegno contro la fame, Riecco Lula difenderò l'Amazzonia. E poi ancora, la cultura di morte non è mai la soluzione di fronte ai problemi, il messaggio per la giornata della vita, appunto, che viene reso noto dalla CEI e questo oggi pubblicato dal supplemento Evita di Avvenire. Meloni, dialogo con la Cina, Piantedosi chiude alle ONG, l'incontro a Bali con Xi Jinping al vertice, appunto, un successo per l'Italia, dicono appunto le fonti vicine al ministro, al primo ministro, poi il congresso del PD sfida Sclein Bonaccini, l'assemblea di sabato decide sui tempi, perché ormai, insomma, da parte di parecchi membri del PD c'è la volontà di accelerare, quindi di non aspettare marzo, era stato messo in calendario il congresso del PD il 12 marzo, lo ricordo bene, è una data che ricordo, ma invece dovrebbe essere anticipato forse addirittura a gennaio. L'Ardemis ce l'ha fatta, la luna è più vicina, anche l'Italia nella missione, Stati Uniti, Trump si ricandida, i ripubblicani restano divisi. E poi, sempre il G20, ma visto da Oriente, ricominciare la tessitura, è l'editoriale a cura di Pio De Miglia, quindi secondo editoriale, oggi sulla prima pagina del quotidiano Avvenire. E noi allora passiamo invece al secolo XIX, secolo XIX di oggi, che titola Meloni apre la Cina non a Macron, G20 di Bali, polemiche anche sulla presenza della figlia, piccola al seguito, ci sarebbero state polemiche, magari se non la avesse portata, che tutti, ecco, guarda che mamma che sta una settimana lontana dalla figlia, eccetera, quindi ci sarebbero state polemiche, comunque, la Premier contraattacca, ho diritto di fare la madre come ritengo, e su questo non ci piove, nessuno ha mai contestato scelte di Premier uomini su questioni familiari, vabbè, e questo per dire come comunque la stampa, o comunque anche forse gli altri esponenti politici trattano una donna Premier. Ingressi delle navi ONG, Piantedosi annuncia la stretta alle camere, e poi non trattiamo più le migrazioni come emergenze. E ancora, a Rixi vanno le deleghe di Porto e Mare, il, ormai, diciamo, sottosegretario Ligure della Lega, avrà quindi competenze su materie che in Liguria sono molto, molto importanti, e lui da Ligure sicuramente avrà un occhio di riguardo, si immagina. Anche Salvini sarà a Genova il 4 dicembre per affrontare i nodi della gronda autostradale del Terzo Valico, questa gronda, insomma, che è inevitabile per Genova, soprattutto dopo il crollo del ponte Morandi. Intervista con Risto di Confindustria, quella di Ansaldo Energia, una sfida decisiva per Genova. E poi nuovamente sulla prima pagina i cavalli che girano selvaggi sulle alte vie Liguri, Parco dell'Avito prove di tregua sui cavalli selvaggi, il comitato degli abitanti incontra gli ambientalisti e cercano insieme un'intesa. Poi ci sono tre notizie, cronaca il processo del figlio di Grillo, un amico si sfila, io non c'entro, il papà di Saman, la ragazza uccisa perché non voleva sposare chi la famiglia aveva deciso, è stato fermato in Pakistan e ora si spera in un'estradizione in Italia, in Pakistan tra l'altro è stato fermato per una truffa che ha fatto i danni di un connazionale, quindi nemmeno per questo reato. Poi Portofino, parroco, batte malacalza sull'ascensore, il giudice ha accolto il ricorso della parrocchia di Portofino e bloccato l'ascensore dell'imprenditore Malacalza che come sapete ha avuto anche per un certo periodo la maggioranza del pacchetto della Carige. Adesso andiamo invece a parlare di cronaca interna, di cronaca locale del nostro territorio con una notizia di cronaca, anziano muore travolto da un furgone, Giovanni De Benedetti avrebbe compiuto 81 anni proprio oggi, l'incidente mentre il mezzo era in manovra, aperta adesso un'indagine per capire. A Favale di Malvaro sulla strada che porta al santuario del Rosario dove l'uomo viveva con la sua famiglia c'è stato questo incidente per ora abbastanza inspiegabile, però chiaramente ci sono le indagini dei carabinieri in corso, accade tutto dopo le 15 di ieri, De Benedetti ex lattaio delle Valle del Tiguglio appena uscito di casa in via a Cereto, la strada che porta appunto al santuario del Rosario per raggiungere il bar del paese e appunto aveva lasciato l'uscio di casa e è stato investito. De Benedetti sfila alle spalle di un furgone parcheggiato dai vicini da casa dell'uomo, a bordo del mezzo c'è un dipendente della Fedex genovese che ha appena effettuato una consegna e si appresta a lasciare la zona. L'anziano passa alle spalle del mezzo proprio nel momento in cui il conducente inizia la retromarcia per abbandonare il parcheggio e quindi prima viene sbalzato a terra dall'urto del mezzo, il conducente però non si accorge della presenza dell'anziano, prosegue la manovra salendoli di fatto sul corpo. Passati alcuni passanti a chiamare l'attenzione, però insomma c'è stato un tentativo di rianimazione, anche di trasporto, come vedete la Salma è stata trasportata a San Martino ma non c'è davvero stato nulla da fare per l'ottantenne che oggi appunto avrebbe compiuto 81 anni. Adesso proprio le indagini dei carabinieri, anche se la dinamica più o meno, dovrebbe essere quella raccontata questa mattina dal secolo XIX. E poi abbiamo visto sulla prima pagina del secolo cavalli selvaggi nelle valli incontro abitanti animalisti, primo contratto tra il Comitato dei Cittadini e l'Associazione Rewild Liguria, cerchiamo una soluzione condivisa dopo le polemiche del passato. Gazzolo costruiremo qualcosa insieme, isola, confronto aperto e votato al dialogo. Poi c'è un appuntamento domenica alle 16 nel Palazzo Comunale di Rezzo Aglio e appunto Paolo Giardelli presenta il suo libro La Memoria Ritrovata, Pentagora Edizione, nuovo appuntamento culturale appunto per la Valdaveto. Parliamo invece, cambiamo decisamente argomento, parliamo di un'opportunità soprattutto per i ragazzi, per i più giovani, la possibilità di salire su un autobus tutti i giorni dell'anno e avere praticamente un grande sconto sull'abbonamento. Questo non solo per gli studenti ma per tutti, anche per coloro che lavorano, basta che abbiano meno di 26 anni. Sconto sugli autobus per gli anni 26 di tutta la provincia, le aree urbane ed extra, abbonamento agevolato a 300 euro, vale tanto per gli studenti quanto per i lavoratori. Il presidente Beltrami sistema che possono confluire su questa formula in 1500. Su questo argomento abbiamo proprio realizzato ieri un servizio che adesso andiamo a rivedere. Si chiama MET26 ed è il primo abbonamento AMT valido su tutta la rete dell'area metropolitana di Genova. Pensato per una clientela giovane, Under26, il nuovo abbonamento sperimentale e acquistabile fino al 30 giugno del 2023 costerà 300 euro e consentirà di viaggiare sull'intera rete AMT, comprese nave bus e la ferrovia Genova Casella. Il lancio sarà accompagnato da una campagna promozionale caratterizzata dallo slogan Allarga i tuoi confini. Come città metropolitana, come AMT, in primis il sindaco e tutti facendo squadra, abbiamo cercato di portare un abbonamento a una cifra 300 euro che sia fattibile per le famiglie. L'abbonamento è prima di tutto un annuale dematerializzato, cioè può essere caricato direttamente sul proprio smartphone, così da averlo sempre con sé, oppure sulla card CityPass. In caso di prima emissione sarà possibile scegliere il giorno di partenza dell'abbonamento entro i 120 giorni della data di acquisto. In caso di rinnovo la decorrenza sarà il giorno successivo alla scadenza dell'attuale titolo di viaggio. Riteniamo che possa essere un'iniziativa che possa raggiungere anche un suo equilibrio economico. Poi stiamo lavorando anche con città metropolitana. L'appeal della proposta è tale che riteniamo di poter crescere decisamente i numeri e intercettare una nuova fascia di clientela che attualmente non usava il trasporto pubblico. È importante che anche gli orari siano concordati in base alle esigenze, in base ai turni lavorativi, in base agli orari scolastici che spesso sono concordati dalle scuole con AMT stessa per garantire agli studenti il massimo della flessibilità e agevolarli al massimo per usufruire di questo servizio che è fondamentale per non far muovere i genitori con le macchine. Va bene, adesso invece andiamo, ci muoviamo, non con la macchina, ma ci muoviamo sicuramente e andiamo nel Golfo Paradiso per alcune notizie che arrivano dal secolo XIX. Ex asilo delle maestre P e Arrecco, via libera ai lavori di recupero, cantiere aperto entro la fine del 2022, immobile abbandonato ormai da vent'anni, la struttura di via Speroni ospiterà un istituto con indirizzo enogastronomico. L'avviso è stato pubblicato sull'alberi pretorio della città metropolitana, quindi finalmente questa struttura così bella, anche se ultimamente un po' in degrado, di Arrecco ritorna ad avere un'utilità anche importante per i giovani. Potatura degli alberi a Arrecco, ecco il piano del comune per evitare il rischio crolli, l'intervento riguarda Aranci, Pini e Lecci, le vie e le piazze interessate sono tante naturalmente nel corso dei prossimi mesi. Al Salone Orientamento l'Oscar degli studenti premia anche il liceo Nicoloso che storicamente si trova a Reco, adesso poi è unito al Davigo, ma comunque ha una sua storia che riguarda proprio il Golfo Paradiso, una sorta di Oscar per i liceali, si chiama Iris e appunto da qualche anno la premiazione finale è il momento più atteso dei Sunedzi e qua è arrivato quest'anno al Nicoloso da Recco. Ancora notizie in breve, questa volta ci spostiamo però nel Tiguglio occidentale, Rapallo, farmaci da donare ai bambini assistiti dal CAV, dal Centro di Aiuto alla Vita, a partire da domani e sino a venerdì 25 novembre, possibilità di donare farmaci che appunto per i bambini assistiti dal Centro Aiuto alla Vita di Rapallo e Santa Margherita, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, pannoline, creme, spazzolini da denti, insomma tutto quello che è occorrente, potranno essere comprate alla farmacia internazionale di Santa Margherita Ligure e alla farmacia Tonolli e comunale di Rapallo. A Zoglio invece ha approvato il programma delle opere pubbliche per il prossimo triennio, appunto ci saranno degli investimenti per 350 mila euro, mentre 400 mila euro dovranno andare per la sistemazione delle strade del Castellaro a seguito della messa in sicurezza e prevista la realizzazione della piattaforma per l'approdo dei traghetti, o dei vaporetti, insomma traghetti io mi vedo sempre quelli che vanno verso la Sardegna, quindi non credo proprio che sia il caso di Zoagli. Andiamo a vedere invece che potrebbe esserci una svolta nella vicenda del Cantero, il teatro chiavarese chiuso ormai da parecchi anni, c'è la procura per venderlo. Chiavari è accordo finalmente raggiunto tra i quattro proprietari della storica struttura culturale, la perizia commissionata dal Comune le aveva attribuito un valore di mercato di 2 milioni, quindi evidentemente c'è la volontà da parte degli enti pubblici di comprare questa struttura e adesso c'è anche l'accordo tra i proprietari che come sappiamo si dividono appunto il teatro che è stato chiuso il 31 di dicembre del 2017, quindi ormai il teatro è chiuso da quattro anni praticamente interi perché siamo alla fine del 2022. Quattro attuali proprietari, 2 milioni questo valore, ricordiamo la superficie di 1.398,08 metri quadrati, quattro livelli fuoriterra, 1.200 spettatori portata massima, capienza limitata poi a 998 imposta dal 2009, 192 metri quadrati, la superficie del palcoscenico, questo è un palcoscenico davvero molto importante dove si possono addirittura anche allestire delle opere liriche, quindi è un teatro davvero molto molto d'utile e importante che potrebbe quindi finalmente avere anche un futuro. San Bartolomeo della Ginestra, Sestri Levante, all'oratorio compiti giochi e divertimento, tante attività nei corsi dei vari pomeriggi appunto in questa struttura della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra. E ancora la comunicazione politica e social, le ultime elezioni, confronto tra giornalisti a Lavagna, Futura ha stimolato un dibattito tra Fulvio Giuliani che è direttore responsabile della regione, ex voce e volto di RTL, e Davide Lentini che attualmente lavora a Radio Monte Carlo. Il dibattito politico si è spostato sul web e viviamo in un clima di propaganda perenne, dicono appunto, in questo talk. Andiamo ancora avanti, ancora dal secolo XIX di oggi, ritorniamo a Rapallo, castello dissequestrato dopo tre anni di attesa, ora si può ripartire soprattutto con i lavori di ristrutturazione che erano previsti già da molti anni, ma fermi, perché il 3 agosto 2019 un turista straniero rimase folgorato appunto nella spiaggetta, negli scogli circostanti il castello e da lì ci fu il sequestro non solo della scogliera ma di tutto il castello. La spiaggia attiva era già stata dissequestrata nel luglio del 2020, invece per il castello si è dovuto attendere altri due anni, due anni e mezzo e finalmente adesso si è arrivati a riavere la possibilità di appunto sfruttare questo castello, addirittura di andare avanti con i lavori di ristrutturazione e potranno essere finalmente eseguiti gli interventi necessari sulla struttura. Oggi però parliamo anche di calcio, di sport, perché sarà una giornata appunto importante per la Virtus Entella che si trova ad avere a che fare con una squadra anche piuttosto forte, la Lucchese, ma non nel campionato di Lega Pro ma nella Coppa Italia. In campo chi finora ha giocato poco, infatti si va verso un turnover ma si va verso la redazione dove vedo pronto il nostro Andrea Capitani. Buongiorno Andrea. Entrare in campo, buongiorno Marco, buongiorno. Ecco, ti stai scaldando. Esatto, esatto, esatto. Iniziamo la giornata con il calcio. Come dicevi tu, un appuntamento atteso ritorna. Infatti la Coppa Italia ha formato Lega Pro a Chiavari e questa sera, questo pomeriggio in realtà alle 18 al comunale di Chiavari arriva la Lucchese negli ottavi di finale di questa competizione. Calcio inizio alle 18. Sentiamo dal microfono di Niccolò Pagliettini come la squadra si è preparata. Ha intervistato il centrocampista di Cosmo. Vediamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio. L'umore è quello giusto perché comunque dopo 9 risultati consecutivi dobbiamo essere comunque contenti di quello che è stato fatto. Certo, due pareggi comunque con due squadre comunque che sono competitive, sono buone squadre quindi comunque dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Potevamo fare sicuramente di più ma va bene così. Siamo lì, siamo ancora primi e quindi vogliamo goderci la testa della classifica e dobbiamo mantenerla. Secondo me è importante, ogni partita è importante e ogni partita dobbiamo entrare in campo con la voglia di vincere, sempre, sempre di vincere perché così costruiamo una mentalità vincente, forte e quella che dobbiamo perseguire per raggiungere l'obiettivo finale. Sicuramente il mister in Coppa dà la possibilità anche a coloro che magari hanno un meno minutaggio e quelli che giocano in Coppa devono entrare in campo con la voglia di vincere e con la voglia di, se possibile, mettere anche in difficoltà il mister allenatore per quelle scelte di domenica, anche perché poi siamo una squadra dove tutti siamo competitivi, quindi magari quando manca qualcuno anche la domenica per infortunio oppure per squalifica, magari uno che gioca in Coppa che a meno minutaggio si deve trovare pronto per la domenica essere anche titolare, quindi è molto importante. Ma le partite di Coppa con le settimane sono sempre un po' così. Sì, secondo me sarà una partita non facile perché la Lucchese è comunque una squadra tosta e poi, come ho detto, in Coppa siamo abituati a vedere risultati anche anomali, insomma squadre comunque blasonate che magari perdono e escono in Coppa. quindi dobbiamo farci trovare pronti perché non sarà la passeggiata come magari si potrebbe pensare. Una notizia che abbiamo dato in solitaria l'altro ieri, ripresa oggi dal secolo XIX, ruspe in azione lungo l'entella per la nuova diga, abbiamo detto appunto già martedì scorso che c'erano state fatte, approfittando anche di una giornata piuttosto brutta, piuttosto piovosa, erano stati fatti alcuni lavori appunto all'interno dell'area di cantiere, quindi riprese delle distruzioni, soprattutto delle rimozioni di muretti, di manufatti eccetera eccetera, di ex serre eccetera. Sono ripresi i lavori sulla sponda del fiume, ruspe in azione lungo l'entella per la nuova diga, quella cosiddetta diga per figli. E poi andiamo ancora a Rapallo, comitato no tunnel, mandato esplorativo al consulente legale. Rapallo adesso appunto questo comitato di cittadini che aveva manifestato nei giorni scorsi proprio davanti al municipio rapallese di Piazza delle Nazioni, adesso valuta la possibilità di ricorrere ufficialmente contro la realizzazione del tunnel, tanto per essere chiari, soprattutto contro quello che è il tratto finale del tunnel che insiste su Rapallo con questo svincolo piuttosto impattante sull'ambiente rapallese di quella località, stiamo parlando di Santa Maria del Campo, Arbocò diciamo quella zona. E quindi il comitato dà mandato all'avvocato Piera Sommovigo, dello studio locale da Rigo e Sommovigo, esperto in diritto amministrativo, già presente del comitato tecnico regionale degli appalti della Liguria e nel frattempo il comitato resta a disposizione dei cittadini dell'istituzione per naturalmente avere anche altri apporti. Costa Aguta Solidale, Casarza Ligure, scusate no, Costa Aguta non c'entra niente, Castagnata Solidale, sosteniamo Pediatria, è ancora tempo di Castagnate nel Levante e questa volta Casarza Ligure è organizzato dalla Polisportiva alle 15 sabato in iniziativa appunto promossa anche da Nomadi Fans Club d'intesa con il comune, il gruppo Alpini e in questa Castagnata appunto saranno raccolti dei fondi da destinare a Pediatria quindi per i bambini, per la cura dei bambini. Perfetto, allora adesso andiamo invece a vedere gli appuntamenti di oggi nella nostra scheda, nella nostra consuetta rassegna con l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 17 novembre. L'Associazione Italo-Britannica di Chiavari propone un incontro sul tema Queen Elizabeth Mission Accomplished. Le letture saranno a cura di Stefania Basini, l'inizio alle 17 alla Società Economica. I Porti delle Storie, progetto organizzato a Genova da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maefredi, prosegue a Palazzo San Giorgio nel capoluogo Ligure dove alle 17 andrà in scena a Palermo, spettacolo fra parole e musica di Mario Incudine e Antonio Vasta. Continua a Sestri Levante, Mondo Visioni, la rassegna dei migliori film su attualità informazione e diritti umani organizzata dalla CineAgenzia e Internazionale. Alle 20.45 all'ex convento dell'Annunziata sarà proiettato il film H2 Occupation Lab. La parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Savona e l'Associazione Culturale Atena Musica organizzano un miniciclo di conferenze su musica, fede e trascendenza. Alle 20.45 nel primo incontro si parlerà di musica, fede e trascendenza nella teologia di Urs von Balthasar con il professor Giovanni Guanti, docente ordinario di musicologia e storia della musica dell'Università degli Studi di Roma III. Alle 21 al Teatro Massone di Pieve Ligure Alta inizia la prima stagione teatrale invernale Scali a Mare Pieve Ligure Arts Festival. Va in scena in Canti Sacri con Mario Incudine e Antonio Vasta. E diamo altri appuntamenti, li prendiamo dal secolo XIX. Da domani al 28 novembre nell'atrio del municipio di Sesti Levante, donne vittime di violenza in mostre vestiti indossati, esposti in pigiami, complessi sportivi estivi, gonne, tailleur, maglioni. La sindaca Ghio dice la colpa legata ai comportamenti femminili diciamo stop allo stereotipo. E ancora donne al centro di incontri da domani a Villa Tiguglio di Rapallo, valorizziamo la figura femminile, donne e cultura a Rapallo domani si inaugurano gli incontri a Villa Tiguglio in attesa della prima edizione del premio Rapallo Biperbank 2022. E adesso invece andiamo a vedere come è la situazione meteorologica di questa giornata e dei prossimi giorni. Allora vedete che nel corso già della nostra rassegna come è cambiata la situazione. Prima avevamo un cielo plumbio, nuvoloso, adesso invece una bella schiarita. Ecco così è il tempo, cioè molto variabile, quindi possiamo dirvi ci saranno nelle prossime ore schiarita, nuvolamente, piogge, tutto, tranne la neve perché non ci sono le temperature adatte per le nevicate. Per il resto avremo tutto, compreso anche il mare piuttosto mosso per una onda da sud ovest, quindi arriva anche il libeccio, cioè veramente non ci facciamo mancare niente. Quindi come si svolgerà la giornata? In maniera un po' caotica, ma qua nel Levante potremo avere della nuvolosità alternata a qualche schiarita nel corso del pomeriggio, con nuvole più intense nell'estremo Levante della nostra regione, in particolare nell'entroterra, quindi ai confini con la Toscana, potranno avere delle precipitazioni anche particolarmente importanti nel corso del pomeriggio. Poi in serata passa un'onda più instabile proprio sul Tiguglio, quindi riviera di Levante in generale, con delle piogge, quindi in serata, piogge tra la sera e la notte. Abbiamo detto che i venti sono moderati a rotazione ciclonica, con rinforzi di libeccio a Levante, ventilazione forte da sud ovest a largo, ne consegue mare molto mosso appunto in mare aperto, su centro a Levante e mosso altrove. Le temperature comunque oggi, soprattutto a Ponente, dove ci saranno le schiarite più ampie, potranno raggiungere tranquillamente 20 gradi e comunque adesso non sono molto basse, quindi già iniziamo l'ascesa. Andiamo invece a vedere la situazione prevista per la giornata di domani, domani sarà appunto giovedì 18 novembre, beh la giornata sarà caratterizzata da schiarite più ampie rispetto a quelle di oggi, anche qua sul Levante, però attenzione perché nella notte tra oggi e domani potranno ancora esserci delle precipitazioni, residui, fenomeni anche sullo spezzino, generale miglioramento, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera regione e praticamente per tutta la giornata, quindi domani decisamente una giornata molto migliore e anche un po' meno variabile. Venti deboli o moderati, settentrionali fino a forti di libeccio a largo, quindi ne conseguo ancora mare molto mosso a largo, mosso altrove. Temperature minime in lieve calo nella prossima notte, le massime invece domani addirittura in leggero aumento, quindi forse andremo anche oltre i 20 gradi. Poi sabato torna grande variabilità, ma ne parleremo meglio domani. Al momento io ringrazio Gregorio Ezechieri che ha curato la parte tecnica in regia, Andrea Capitani che abbiamo visto dalla redazione, tutti voi che ci avete seguito e naturalmente continuerete a farlo sulle nostre frequenze, ricordiamo il prossimo aggiornamento con la cronaca locale alle 12.45 il Tg Tiguglio Oggi, poi domani alle 7.30 e 8.10, ritorniamo per l'ultimo giorno della nostra rassegna feriale. Da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti. Marco Revello l'autima giornata a tutti.